Zobo Sly Doria che prova a sfruttare le corsie laterali Prova a far partire il tiro Che gol fantastico Ha trovato la rete con una vole spettacolare E rivediamo ancora il gol Ha superato bene il proprio marcatore Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura E ha trovato tempo e spazio per battere la rete Grazie